Oggi ci siamo occupati del tema della semplificazione amministrativa nei confronti dei nostri territori, dei comuni e delle imprese e uno dei temi che è venuto in rilievo è la semplificazione delle attività dei centri di controllo e delle officine di riparazione dei veicoli a motore. In particolare si è discusso del recepimento del nostro ordinamento della direttiva europea la 45 del 2014 che pone un principio fondamentale cioè quello di evitare conflitti di interesse tra i soggetti che pongono in essere l'attività di controllo sui veicoli e i soggetti che invece poi intervengono con le riparazioni. Da questo ne discendono una serie di conseguenze dal punto di vista tributario con particolare riferimento all'imposta sui rifiuti. Altro tema di cui si è discusso di ampia rilevanza è poi quello della vendita diretta dei prodotti agricoli su area pubblica. Le pubbliche amministrazioni locali pongono una maggiore attenzione alla sostenibilità dei cicli alimentari e la vendita diretta dei prodotti agricoli su area pubblica assume implicazioni socio-economiche di impatto anche per la resilienza dei sistemi locali di accesso al cibo. Ecco che Lanci Piemonte e la città metropolitana di Torino nell'ambito del progetto Metropoli Strategiche promuovono la semplificazione dell'attività della vendita diretta dei prodotti agricoli su area pubblica e le linee guida hanno come obiettivo quello di introdurre strumenti di semplificazione sia per quanto concerne la comunicazione di inizio attività che strumenti di uniformazione per i criteri di assegnazione giornaliere dei posteggi. Ci poniamo inoltre all'obiettivo di guardare le nuove tecnologie e l'integrazione delle stesse nei procedimenti amministrativi promuovendo e sostenendo l'utilizzo del fascicolo aziendale nell'espletamento dei controlli sulle aree pubbliche. Grazie.